Nuovi dettagli arrivano dalla maxi truffa scaturita dall'inchiesta Car Crush 2 dai carabinieri sui falsi incidenti a San Luca. Un'operazione che ricordiamo era partita il febbraio del 2017 fino al novembre scorso e che vede coinvolti diversi comuni della Locride. In primis San Luca, Platì, Locri, Ardore, Siderno, Bovalino, Africo, Benestare e Careri e finire all'imbuto delle vittime diverse assicurazioni multinazionali tra cui Allianz, Unipol, Cattolica e AXA. Finiti nell'inchiesta anche carrozzieri compiacenti risedenti nei comuni della Locride, i quali provvedevano prima dell'arrivo del perito mandato dall'assicurazione a montare sulle auto incidentate al posto dei pezzi di carrozzerie integri, sportelli, mascherine, fanalini, vetri e quant'altro ammaccati o rotti, causando così l'incremento notevole delle cifre di migliaia e migliaia di euro in più. Cifre che, ricordiamo, l'assicurazione poi dovevano pagare. Tra gli indagati è anche una persona precedentemente denunciata per aver finto di essere fatturato una mano nel corso di un incidente mai accaduto.